Buonasera e ben ritrovati con Amico Fisco e con Massimo Andemo dell'Ufficio Territoriale di Est. Ciao Massimo. La scorsa settimana abbiamo parlato di 7.30, questa settimana vogliamo parlare del modello unico persone fisiche 2011, già disponibile come bozza nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Allora Massimo, spiegaci un attimino. Sì, sì, grazie Michele e buonasera ai telespettatori tutti. Abbiamo detto che è già disponibile appunto il modello di dichiarazione unico online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it e come ogni anno questo modello unico è formato di tre fascicoli, il fascicolo 1, il fascicolo 2 e il fascicolo 3, a seconda delle tipologie di redditi che devono essere indicati. Pensiamo al lavoratore dipendente ad esempio con particolari spese che deve essere indicato nel fascicolo 1 oppure soggetti che hanno reddito di impresa che devono compilare il fascicolo 3. La novità di quest'anno è che è stato fatto un lavoro di semplificazione appunto per migliorare e facilitare il linguaggio non solamente le schede che devono essere utilizzate per la compilazione del modello ma proprio le istruzioni che sono fornite appunto per la compilazione. Ciò per facilitare questo adempimento da parte del contribuente e il risultato è che sono state predisposte delle apposite schede di sintesi che chiariscono appunto alcuni dubbi e i principali adempimenti. Allora diciamo subito chi può presentare il modello unico. Diciamo che il modello unico è riservato a quei soggetti che hanno un reddito di lavoro autonomo o un reddito di impresa. Pertanto escludiamo tra virgolette i lavoratori dipendenti i quali possono presentare il modello più semplificato che è il 730 che è appunto la dichiarazione più semplice. I lavori dipendenti però che hanno anche altre tipologie di redditi come redditi di partecipazione in società o redditi di lavoro autonomo sono obbligati a presentare il modello unico. Ricordiamo la data, la data di presentazione è il 30 settembre come ogni anno, ormai qualche anno rimane tale e questa è la data entro la quale deve essere presentato il modello unico in via telematica. Facciamo una precisazione, presentazione non significa solamente la consegna ad esempio da parte del soggetto al professionista se vuole utilizzare l'intermediario per la trasmissione telematica, però è necessario che il soggetto verifichi di avere la ricevuta di ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle entrate. Parliamo di dichiarazione telematica, pertanto tutte queste ricevute e questi dati sono scaricabili direttamente online dal sito dell'agenzia delle entrate. Ecco ricordiamo anche in questo caso quali sono le novità introdotte nel modello unico 2011. Sì, nel modello unico 2010 ci sono alcune novità legate a particolari quadri. Il nuovo di Zecca è il quadro QR. Il QR permetterà ai lavoratori dipendenti che hanno effettuato nel 2008 o nel 2009 prestazioni di lavoro notturno straordinario legato a incrementi di produttività di avere appunto il rimborso fiscale. E appunto è stato creato questo quadro, verrà indicato il reddito e pertanto il rimborso che aspetterà il contribuente. Un'altra novità riguarda il quadro CR che è sempre stato presente nel modello unico, però quest'anno è stata inserita un'apposita sezione dedicata appunto ai crediti per mediazioni giudiziarie. Altra novità riguarda i quadri RM e RT che erano i soliti quadri delle imposte sostitutive o della tassazione separata e anche in questi quadri è stata inserita un'apposita sezione per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Infine è stata rivista completamente la struttura e le istruzioni del quadro RW per raccogliere tutti i chiarimenti che sono stati forniti nel corso del tempo da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione allo scudo fiscale e monitoraggio fiscale. Andiamo a vedere Massimo anche quali sono i principali elementi da evidenziare in questo modello unico. Sì, anche quest'anno i principali elementi hanno a che fare con le spese sostenute dei contribuenti per i quali è prevista una detrazione di imposta e pertanto alla fine ci sarà un vantaggio fiscale, un rimborso, un credito che il contribuente potrà richiedere nella dichiarazione. Nel fascicolo primo pertanto parliamo del 20% di detrazione fiscale per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, parliamo del famoso 36% ormai sono molti anni che esiste questo tipo di detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia che sono stati fatti nell'abitazione e parliamo del 55% che è questa detrazione fiscale molto alta che da qualche anno è stata introdotta, legata alla riqualificazione energetica degli edifici. Passiamo al terzo fascicolo dove è stata introdotta una sezione dedicata alla cosiddetta Tremonti Tessile, ossia quell'incentivo che è stato riservato alle imprese del settore tessile e della moda. Questo è tutto in quanto al modello unico, come sempre noi ti ringraziamo Massimo per la chiarezza, ricorriamo naturalmente l'e-mail della trasmissione amicofisco.chiocciolatelechiara.it ricorriamo che amicofisco con tutte le novità fiscali ritorna sempre la prossima settimana alla stessa ora, sempre su Telechiara. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!